e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui su stammergeiser come sempre è nuova sempre stessa challenge oggi quasi prenderemo la ruota gratis della ruta della fortuna sempre se riusciremo a vincere il secondo round e arrivare al round finale però raga prima di iniziare vi ricordo come sempre un bel like scrizione campanella per non perdervi nessun video se dopo sarà disponibile ci vedremo pure il video gratis per prendere i dollari di bis non so che cosa servono quindi ci prenderemo due rote della fortuna cioè quella gratis e poi se ci sta anche quello con il video più i dollari di beast quindi raga partiamoci in chiacchiere e cominciamo ok niente questa qua di ghiaccia questa qua un po' rompiscatole non per dire raga però ok 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 raga ci qualifichiamo per primi ok raga seconda round lost tempo mamma mia raga quanto tempo sta mappa mamma mia sperando riesco a sperando e mi ricordi trick ok allora mi ricorda che qua sicuramente devo mandare quindi ecco sto pure per ok 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 forse ci qualifichiamo di nuovo primi raga no 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 mannaggia mi ha spinto di nuovo indietro ti prego ma perché sì eh no 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 niente penso tutti qua raga cioè da primo sono passato tipo ah quasi ad ultimo raga almeno male almeno siamo riusciti a vincere secondo round quindi ci posso aprendere la ruota gratis però raga come sempre non vogliamo vincere vediamo che pur cosa ci uscirà raw show Ahi raga, sta mappa mi piace proprio Cioè ci sono 4 eliminati, ok No Mamma mia raga, ho rischiato Sì raga No raga Non ci credo Raga proprio è l'ultimo, vabbè non fa niente Dai, almeno ci prendiamo Questa ruota gratis Spendere ci porta un po' di fortuna Niente Vabbè, come se non abbiamo vinto purtroppo non mi posso prendere le ruote gratis Quindi raga spero che questo video vi sia piaciuto Allora prendiamoci prima tutte queste missioni Ok, posso riscuotere questo Quindi raga spero che questo video vi sia piaciuto Lasciati like e noi ci vediamo domani con un prossimo video Bella raga Ciao 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 Ciao